Chi era Rosario Livatino? La sua personalità, a mio avviso, è raccontata bene da un particolare delle indagini. Su una pagina della sua agenda e in altri suoi scritti si rinviene una sigla, la sigla S.T.D. E le tre lettere furono all'inizio un vero rompicapo da enigmisti e fu vano ogni tentativo di decriptazione da parte degli esperti. La spiegazione si rinvenne nella sua fede cattolica. Con quella sigla Subtutela Dei, S.T.D., Rosario invoca l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice.